ma che ora si ribaltano? con 6 malvolanti si ribalti e aterri comunque dritto parte una volta su 10 si la media è più o meno quella dai eccolo che sfiga era decima arriva la macchina arriva la macchina proprio male bombe che minchia ha sparato dove? non capisco hai rotto i coglioni Gianni morto oh shit sarà mica lì sopra? oh shit oh shit oh shit plam 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 wlahm wlahm Grazie a tutti.